salve a tutti da casa del papi è ritornato disponibile nocciolino perché la nostra associazione ha delle regole ben precise nel senso chip vaccino e obbligo di sterilizzazione chi non mantiene le nostre regole noi se andiamo a riprendere cane ce lo riportiamo nuovamente in sede perché è giusto che sia così quindi lui è tornato nuovamente disponibile abbiamo fatto un preaffido non è andato a buon fine e nocciolino è ancora a casa del papi o meglio gli è ritornato ho fatto solamente un pochettino così di vacanza poca poca se lo volete contattateci attraverso il nostro numero whatsapp fate la vostra richiesta mi raccomando chip vaccino e obbligo di sterilizzazione lui si chiama nocciolino vieni qua noccioli guarda guardate bello nocciolino a casa del papi e da quelli bacenti bravo piccolino ciao 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 ciao